Abbiamo con noi Massimo Maronati, quello che più di tutti sa cos'è Quiddis. Abbiamo realizzato Quiddis con un progetto della Comunità Europea con l'obiettivo dell'integrazione dei ragazzi e delle persone disagiate e soprattutto da un punto di vista culturale e linguistico. Siamo contenti di aver dato la possibilità a questo progetto di sperimentare, di provare e soprattutto di dare uno strumento tecnologicamente avanzato in mano dei ragazzi che non hanno nessuna competenza informatica. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal risultato che hanno raggiunto e soprattutto dalla creatività e dal modo estremamente originale dell'uso di uno strumento informatico così sofisticato.